buongiorno a tutti vi presento il nostro nuovo materasso body trainer e il vostro personal wellness assistant è un materasso che qui vedete nella sua interezza pronto per la prova quando speriamo verrete a trovarci per voi stessi testare l'innovazione che porta è un materasso frutto dello studio di almeno due anni dalla ditta manifattura falomo ed è particolarmente idoneo alle agli atleti e alle persone che praticano molto sport e amano tenersi in forma e sollecitare spesso la propria muscolatura manifattura falomo si interfazza con medici e fisioterapisti e collabora proprio in ambito sportivo per cercare di migliorare il benessere il comfort degli atleti nei momenti di riposo notturno in maniera che il sonno diventi un momento di lavoro passivo della propria muscolatura lo scopo è quello di fornire agli atleti un materasso con la giusta rigidità e una portanza progressiva e con un massello che simuli l'azione del fisioterapista di allungare la colonna vertebrale e rilassare i muscoli distendendoli sfruttando i movimenti che l'atleta esegue nel muoversi durante la notte guardiamo bene il prodotto partendo dalla lastra che il cuore pulsante del materasso è composto da diversi strati c'è lo strato inferiore che è un soia densità 50 quello che vedete il rosso è lo strato che dà la portanza al materasso è proprio la base e lavora in maniera passiva è costituita da questi rulli vedete che sono fissati alla base poi troviamo uno strato sempre in soia che è questo qua giallo che è quello che veramente attiva i rulli perché se proprio questi scorrono e tra i due tra i due inferiori e superiore ed è quello che crea il movimento che aiuta la colonna vertebrale poi c'è uno strato in soia orange densità 60 attenzione con la densità veramente alta che è quello che dà la portanza al materasso ed è molto elastico e quello su cui vedremo si lavorerà per regolare la rigidità insomma a seconda della persona poi l'ultimo strato è uno strato in memory è un memory fresh blu che è un grande classico della manifattura falomo che è traspirante e nello stesso tempo molto fresco e loro lo usano nei materassi di alta qualità quelli e lo usano anche sui guanciali è un materiale certificato che è proprio un certificato termografico che dimostra che rimane fresco nonostante sia i memory è comunque un memory molto fresco e traspirante vediamo ora come si comporta il prodotto quando noi ci sdraiamo e dormiamo sopra vedete questi rulli quando noi ci muoviamo durante la notte proprio si spostano vedete rullano l'uno sull'altro e questo movimento che è unico che fa solo questo materasso in commercio non c'è nient'altro di simile proprio e distende la colonna vertebrale e i muscoli rilassandoli vedete è una cosa veramente ecco cerco di farvela vedere nel maniera possibile ecco in maniera che la colonna si questo simula il lavoro del fisioterapista i rulli scorrono l'uno sull'altro in maniera sinergica e distendono i muscoli e tirano la colonna vertebrale proprio quello che serve agli atleti alle persone con una muscolatura molto contatta che durante la notte vogliono riposarsi e rilassarsi vedete ora veniamo alla parte della progressione e quando ci sdraiamo questo materasso è idoneo sia alle persone molto pesanti che alle persone più leggere quindi non è differenziato e in unica rigidità però questi rulli lavorano in maniera che si attiva proprio una progressione di rigidità vedete quando noi ci sdraiamo subito sentiamo lavorare in memory quindi il materasso rimane molto confortevole molto soffice superficialmente poi premendo ad esempio il peso di una persona leggera arriva a utilizzare lo strato in soia orange vedete come si preme si prende la forma l'ergonomia prende proprio la forma della vostra schiena e diminuisce la compressione le persone più pesanti arrivano a comprimere anche e a far lavorare anche la zona gialla la zona gialla diventa attiva si attiva e diventa anche lei sinergica con quella blu per aiutare a seguire il peso con i movimenti e il peso corporeo delle persone durante la notte vedete quindi è idoneo se le persone leggere ma anche alle persone più pesanti notate bene il massello aperto come come strutturato vedete c'è in la zona dei rulli si trova nella zona sotto alle reni e sotto alle spalle in questa zona qua dove più importante che sia e per simmetria l'hanno messo anche in fondo in maniera che voi potete girare in materasso testa piedi non alto basso è solo testa piedi usurandolo in maniera uniforme però non ha lato testa e lato piedi e simmetrico e nella zona più importante quindi dove più importante che sia hanno messo questa questi rulli invece nella zona lombare nella zona rimane più sostenuto più rigido vedete non ci sono i rulli quindi non fa l'effetto ammortizzatore diciamo dov'è che più soffice e non rulla e rimane più sostenuto più rigido non ha l'effetto del rullaggio qui c'è bisogno di un supporto maggiore nella zona delle lombare insomma vedete body trainer è un materasso no flip no flip significa che è un materasso che non si può girare si ha un unico lato da utilizzare che è il lato superiore voi potete girarlo testa e piedi come vi ho detto prima e questo va benissimo perché l'usura è uniforme ma non potete ribaltarlo questo no perché strutturato come avete visto in maniera da essere usato solo sul lato è rifinito ora vediamo il materasso nella sua interezza nel suo nel suo vestito nelle finiture che utilizza ha una bellissima fascia applicata bianca che è in tessuto tencel vedremo dopo ed è rifinita con questa fascia elegante blu e viene è un tessuto d'arredamento che è completamente sfoderabile e viene rifinito con questa bellissima fascia con questa bellissima fascia che è un etichetta ricamata che simbolo di artigiani artigianalità del prodotto come vi dicevo prima è totalmente sfoderabile allora si può sfoderare la parte di sopra il tessuto di sopra è estremamente confortevole è realizzato e imbottito in tencel è un tessuto molto pregiato che fa l'uomo la manifattura fa l'uomo utilizza nei suoi materassi più belli ha una mano morbidissima e lavabile sfoderabile completamente vedete e si può lavare fino a 60 gradi è molto traspirante assorbe l'umidità e la dissipa ed è particolarmente indicato nella stagione invernale perché il comfort che dà e l'avvolgenza che dà e la morbidezza che questo trapuntino conferisce al materasso è veramente unica e io la consiglio in inverno vedete si sfodera e lo potete mettere in lavatrice e lavarlo fino a 60 gradi la parte di sotto invece è stata studiata per essere utilizzata in estate è realizzata sempre in tessuto tencel un tencel fresh che è potenziato con un trattamento che lo rende particolarmente fresco ma ugualmente traspirante e dissipatore dell'umidità corporea anche lui il materasso così rimane più rigido quindi durante l'estate quando c'è molto caldo e meno avvolgente e vi dà più la sensazione del fresco e lavorano di più molto bene anche i rulli vedete e questa fodera potete riporla in una bellissima borsina apposta anche questa parte è sfoderabile la potete togliere e lavare a 40 gradi vedete vi rimane il massello del materasso e questa parte si può comodamente lavare quindi la rifinitura è stata proprio studiata per essere molto elegante e nello stesso tempo funzionale perché il vostro materasso sarà sempre pulito come nuovo anzi di più potete lavarlo se quando volete tranquillamente in lavatrice e in casa il materasso nella sua interezza è alto 30 cm solo la lastra interna è alta 26 cm una volta sfoderato quindi rimane un materasso abbastanza alto e portante vedete tutte le maniglie per spostarlo ruotarlo viene rifinito con questo bordino in tessuto di velluto che l'avete sia qua dove c'è la cerniera e anche nella parte sotto vedete rifinito in maniera sartoriale è proprio fatto a mano è veramente curato nei minimi particolari guardate che precisione nei punti e nella manifattura veniamo ora alle certificazioni che sono importantissime ricordiamo il certificato termografico per il materiale in memory blue che garantisce la traspirazione e la freschezza del materiale inoltre è certificato dall'istituto di monaco ergonomico con cui la manifattura falomo collabora da tanto tempo e che fornisce la certificazione a diversi materassi top di gamma inoltre importantissimo che piacerà a tutti è un dispositivo medico quindi riuscite a utilizzare la spesa nella denuncia dei redditi e detrarrete il 19 per cento come spesa medica quindi lo potete recuperare insieme agli scontrini della farmazia o a quelli del medico come spesa medica l'unico dispiacere veramente di non poterlo fare provare di persona perché veramente un prodotto unico nessuno prodotto del genere studiato proprio nei minimi particolari proprio per le persone sportive e che amano muoversi spesso perché proprio è un asilio quasi indispensabile è una cosa che se la provate non potete più farne a meno allora vi aspetto nel nostro showroom a reggio emilia oppure nel nostro il nostro materassiburani.it che è il nostro e shop grazie ciao